Viale Primoveria Pescara dove in corso il cantiere sulla Riviera Sud potrebbe tornare a doppio senso di circolazione. Il condizionale è d'obbligo visto che nelle prossime ore l'impresa dovrà decidere se ciò sarà possibile. In questo modo si risolverebbe anche il problema del bus della Tua 21 che per forza di cose ha dovuto cambiare percorso tagliando fuori dal tragitto i residenti della Pineta, soprattutto i pianziani, creando numerosi disagi. Se il doppio senso di marcia sulla Riviera Sud di Pescara non dovesse essere possibile si potrebbe pensare a una navetta. Questi punti salienti venuti fuori dalla Commissione Comunale alla Mobilità che si è riunita oggi a Palazzo di Città alla presenza dei vertici della Tua. D'altronde il presidente della Commissione Armando Foschi aveva fatto richieste precise all'azienda dei trasporti. Allora, premetto che la linea 21 è stata spostata, dirottata a causa del cantiere su Viale Primoveria e quindi all'altezza di Viale Pindaro il 21 si sposta su Via della Bonifica e poi su Via Antonelli quindi trascurando completamente il quartiere Pineta i cittadini e gli utenti sono costretti a fare chilometri a piedi se scendono in Via della Bonifica. Se dovessero scendere in Via Antonelli si trovano in un tratto di strada senza marciapiedi, senza strisce pedonali dovrebbero attraversare il Parco d'Avolos per la riserva d'Annunziana per arrivare in zona Via Scarfoglio ma attualmente la riserva d'Annunziana è chiusa per il lavoro in corso quindi i cittadini sono completamente abbandonati. Insomma ci sono difficoltà e disagi a questo modo se così non andrà, soprattutto per le persone più anziane? Sì, soprattutto per le anziane, voglio ricordare che lì c'è un pensionato INPDAP dove ci sono parecchi anziani che sono costretti a ricorrere ad altri mezzi di trasporto con molto disagio. Ora non resta a chi attendere se Via Le Primovere possa tornare a doppio senso di circolazione nonostante i lavori in corso il che risolverebbe molti problemi.